Ciao amici di Italia Dog Games, buongiorno lunedì 18 dicembre, buon inizio di settimana la settimana diciamo prenatalizia, domenica, è la vigilia di Natale andiamo subito a vedere le novità di oggi e non solo di oggi perché grazie ad Alessandro vi devo far vedere anche un'altra cosa che è arrivata nei giorni scorsi forse giovedì, io non l'avevo vista, mi immagino che sia arrivata giovedì ma non ho la certezza comunque è arrivata nei giorni scorsi e mi fa piacere segnalarla perché è un altro buon segnale da parte di Konami sulla modalità offline, la prima corposa che è arrivata nel gioco e che si sta dimostrando anche aggiornata, aggiornabile diciamo vabbè queste sono le cose, bonus di accesso normale, oggi le monete d'oro in regalo se avete iniziato da giovedì a logarvi tutti i giorni, il giro di Inter e Milan come avevamo un po' anticipato, vabbè la manutenzione a me e Konami non ci interessa allora vi mostro subito la novità che è arrivata probabilmente giovedì scorso ma non ne sono onestamente sicuro allora nel campionato, offline sto parlando intanto sappiamo che c'è l'aggiornamento live più recente applicato quindi i giocatori, la condizione dei giocatori si basa anche su quello che vediamo cambiato ogni giovedì se andate in prestito ecco qui la novità, ci sono più giocatori e tra cui c'è anche Andres Iniesta in versione già livellata, quindi controllo palla 96, dribbling 91, possesso stretto 96 passaggio raso terra 99, passaggio alto 96, 98 di overall che penso che in squadra sarà ancora di più quindi come dire, è la prima leggenda che arriva nel campionato offline ma secondo me è una bella notizia per chi magari non vuole o non ha la possibilità di prendere le leggende almeno ci può giocare per 10 partite, in questo caso Iniesta vedremo se ne arriveranno altre poi mi sembra che c'è anche qualche giocatore nuovo perché Savagnar da Gasbiera me lo ricordo forse anche Martinez Quarta, Isciara, Sosa, Mugnoz, Berguà, Danilo e Gallagher e Almirona io non me li ricordo, però non ne sono sicuro quindi sicuramente Iniesta non c'era quindi una bella novità per il campionato offline poi vabbè ci sono tutti i giocatori del Napoli perché avevo preso il Napoli per la mia campionata offline a chi mi chiede ma perché non porti anche il campionato offline ragazzi mi diverto di più online l'ho sempre detto, non l'ho mai nascosto ho fatto vedere un paio di partite ho dato tutte le informazioni alla community sul campionato offline come oggi ma il mio divertimento è qui mi diverto nel campionato eFootball online ripartiamo dal doppia vittoria delle ultime due partite dal 50% di vittorie fino a questo momento sono sceso in posizione nonostante abbia fatto due vittorie probabilmente perché sto giocando poco sabato e domenica non ho giocato ho registrato tutto venerdì questa sera si riparte e vediamo comunque di arrivare in divisione 2 speriamo abbiamo tempo fino al 4 gennaio non c'è manco tanto tempo tra l'altro è molto corta questa fase di divisione 3 quindi speriamo che entro il 3 gennaio poi è rapidissimo di arrivare almeno in divisione 2 in divisione 1 penso che sia impossibile con questa velocità con cui sto giocando però io mi diverto mi gusta anche vedere le mie percentuali la valutazione, la posizione attuale in divisione 1 ancora sono a 0,0 pochissimi prima non era così era molto differente la progressione ma ne parleremo domani salvo breaking news per fare un punto sull'aggiornamento 3.2.0 andiamo a vedere gli eventi eccole qua English Club 6 giorni andiamo un po' a vedere i premi ci saranno le 50 monete d'oro immagino giocatori inglesi come da mettere 50 monete aggiuntabilità aggiuntabilità 2 neanche sto facendo gli eventi per le 50 monete ragazzi quindi e poi English Clubs eccolo qui e qui ci sarà sempre lo stesso qui giocatori bonus gli inglesi qui potete mettere o non mettere i 30.000 30.000 aggiuntabilità 1 il classico del lunedì l'Italian Clubs questo è lungo gli eventi tour 23 giorni ma l'avevamo già visto giovedì se non ricordo male 50.000 50.000 100.000 GP perché ha bisogno di GP è ottimo e qui ci sono gli eventi già visti anche i 2SL Championship il 16 tra 16 giorni finisce adesso andiamo a vedere i pool e dovreste già sapere chi c'è come leggende perché abbiamo fatto un ulteriore approfondimento sabato ma adesso andiamo a vedere in dettaglio eccolo qui l'abbiamo presi Cantona King e York andiamo un attimo a vedere in dettaglio se ci sono novità e andiamo anche a vedere su Italian Clubs questo mi interessa molto non dovrei trovare Turam a posto ragazzi allora è confermatissimo che alla fine di tutti questi giri gratis avremo tutti gli 8 giocatori io sapete che mi interessa molto Teo Hernandez in questa versione quindi prima della fine di questa campagna lo troverò prima o poi spero prima che poi ma sicuramente Teo Hernandez arriverà molto bene e quindi non lo giro ovviamente aspetto domenica come ben sapete contratti mirati primo gennaio primo gennaio eh vabbè dovrò fare qualcosa ok infine andiamo a vedere le tre leggende della Premier League ci sono i giocatori in evidenza come avevamo anche in questo caso mostrato Solomon del Tottenham regista credivo 34 livelli di crescita Madueke 34 livelli di crescita anche lui molto veloce e molta accelerazione giocatore che non conosco Joe Ellington giocatore chiave 39 livelli di crescita Carver Levin 29 livelli di crescita 29 livelli di crescita Joao Pedro che però non è l'ex Caier è un omonimo mi sembra almeno dall'immagine non mi sembra lui Pedro Neto Pedro Neto vi ho mostrato il boost ho mostrato il boost eccolo qui un punto di boost e due punti in più sul tiro tante tante abilità giocatore York 83 finalizzazione contatto fisico potenza di tiro tiro più 2 un po' di abilità giocatori 31 livelli di crescita e poi il più atteso di tutti Cantona controllo ballo 85 finalizzazione 77 potenza di tiro 86 contatto fisico 75 con il booster tutti più tiro pallonetto mirato tiro a salire lancio lungo finalizzazione acrobatica colpo di tacco passaggio di prima passaggio di filtrante cross calibrato esterno a giro no look i tre giocatori raggiungono 99 Cantona York 97 King 97 quindi Cantona supererà ampiamente i 100 dovrebbe arrivare a 102 103 se magari a seconda un po' di come entra York e King dovrebbero arrivare a 100 questo è tutto ragazzi per il momento e che dirvi l'aggiornamento è lunedì è più o meno sempre sempre quello sostanzialmente non ci sono particolari novità il gioco bonus lo facciamo stasera dopo aver giocato in il campionato ragazzi per il momento è tutto io vi ringrazio per l'attenzione fatemi sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento del lunedì che come al solito è un po' minuto non c'è niente di particolarmente differente rispetto agli altri lunedì abbiamo solo visto che c'è in più questa novità del campionato offline ma ripeto probabilmente era arrivata giovedì scorso giovedì prossimo a questo punto controlleremo le novità anche il campionato offline se ci saranno per il momento è tutto ragazzi io vi ringrazio fatemi sapere che ne pensate di Cantona qualcuno già nella notte mi ha scritto che lo ha pescato era leggermente interessato al giocatore buona giornata e buona settimana ciao 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 Grazie.